A me mi piace la scuola perché le maestre ci aiutano sempre, quando abbiamo bisogno stiamo bene in classe, abbiamo delle maestre brave, ci aiutano sempre, facciamo lavori belli sempre. Mi piace la scuola perché facciamo delle lezioni all'aperto e poi ci sono cose interessanti. Questa scuola mi piace perché c'è un giardino molto grande e poi perché posso disegnare e scrivere delle storie. Io mi sento bene in questa scuola perché ho incontrato dei nuovi compagni, davvero fantastici e divertenti, delle maestre amoreveri che sicuramente vi accoglieranno. Questa scuola per me è bellissima. A me piace questa scuola perché siamo tutti uniti, risolviamo i problemi insieme quando ce n'è bisogno, cioè si discute insieme. Le maestre saranno contentissime di accogliervi e ve la consiglio questa scuola. Ciao! Per me questa scuola è molto accogliente e faccio amicizia. Molto velocemente mi piace trascorrere la ricreazione con i miei compagni al campetto. E questa scuola non la cambierei per niente al mondo. Per me la scuola è tutto, è tutto ciò che amo perché da subito ho fatto amicizia con le mie maestre e con i miei compagni. Per me la scuola è una casa, una casa per i bambini. Mi piace questa scuola perché ci sono i miei amici e perché imparo tante cose. Quando c'è arte non vado l'ora di disegnare. Mi piace la scuola perché ci sono molti ragazzi e mi piacciono tanto le materie e c'è molto divertimento. Mi piace molto il cortile perché con altri bambini puoi giocare e ti diverti molto a giocare sempre.